E' il Bologna di Mister Troisi a dominare con sei vittorie nelle prime sei giornate il girone B del campionato Under 17A e B. I Rosso Blue dopo il successo di prestigio ad Interello di settimana scorsa hanno rilanciato la loro andatura in vetta con un altro 2-0 servito stavolta sotto la pioggia in casa e contro l'Ellas Verona. Solida, difficile da sorprendere e sempre pericolosa con i suoi attaccanti, la squadra Rosso Blue passa subito in avvio con il solito Stanzani al quinto sigillo in campionato. Assist di Capitan Busi dalle retrovie e l'inserimento centrale alle spalle dei difensori ha tutta l'aria di essere uno schema per quanto elementare provato più volte in allenamento e che certamente riesce molto bene. Il numero 10 del Bologna ha aggrifato dunque cinque delle sei vittorie di squadra. Il suo compagno di reparto Pirreca non è però da meno. Oltre alla doppietta infilata al Cagliari nell'unica giornata senza reti del gemello del gol, il centroavanti ha nel pallottoliere anche il Brescia, l'Inter e dopo un assist di un amore non sfruttato proprio al Verona, per un tabellino in fotocopia rispetto a quello contro i Nerazzurri. Nel finale sotto il nubifraggio qualche timidazione offensiva degli ospiti che però si perde nella pioggia, senza impensierire un Bologna che vola altissimo e assieme allo Spezia, altrettanto sorprendente e meritevole di applausi, procede a punteggio pieno la sua corsa da capolista. Da Bologna per la Giovane Italia, Luca Brivio.